Da tanti tanti anni sono anche supervisore delle equipe educative. Da questa prassi io posso capire che cosa serve agli educatori in aula. Quali sono gli elementi che veramente sono importanti, che imparino e poi mettano in pratica. Penso che il nostro istituto ha un ruolo molto ma molto importante. Di cambiare un po' la mentalità sul territorio degli educatori che lavorano nelle equipe educative. Ogni volta quando uno studente arriva a discutere la tesi, io mi commuovo. Soprattutto nel momento in cui qualcuno arriva e dice Chris, questi tre anni mi hanno cambiato la vita. Io penso che uno dei principali elementi di questo cambiamento di mentalità, come lo chiamo io, è questa capacità di riflettere su quello che faccio. Grazie a tutti.